Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Come sempre all'inizio del mese eccoci qua a stirare la mia TBR per il mese di ottobre. Con l'arrivo dell'autunno le mie TBR si fanno leggermente sempre più tematiche, in particolare più che nelle altre stagioni, l'autunno, ecco, lo dedico a determinati tipi di letture. Mi piace molto leggere durante ottobre, novembre, libri che comunque riescono a portarmi in determinate atmosfere. Per questo motivo ho cercato di mettere all'interno di questa TBR dei libri che in qualche modo vadano a soddisfare questa mia esigenza durante il periodo autunnale. Ci sono diversi libri che vorrei leggere ad ottobre, in modo particolare usciranno dei volumi, dei nuovi titoli che mi interessano particolarmente e che vorrei leggere immediatamente, ma poi ci sono anche altre cose che vorrei recuperare e quindi staremo poi a vedere come giostrarci tutta la situazione. Sapete benissimo che queste mie TBR sono comunque indicative di quello che andrò effettivamente a leggere nel mese corrente perché, ecco, le riempio un po'. Dopo non riesco mai a leggere tutto quello che mi sono prefissato e molte volte poi mi prendo lo schizzo e leggo cose completamente a random, dimenticandomene da TBR. Ma, come dico sempre, per me sono utilissime, danno un'idea di quello che si vuole leggere durante il mese e quindi vado sempre a stilarne una in modo da capire come orientarmi durante quel mese per quanto riguarda le letture. E ora non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo immediatamente. Partiamo da quella che sarà sicuramente la mia prossima lettura. Si tratta di un'uscita recentissima per Nord, è uscita infatti a settembre, storie di due anime di Alex, l'Andro e Jean. Si tratta di uno di quei romanzi all'interno di altri romanzi, all'interno di altre storie. Il libro è ambientato a Parigi, ai giorni nostri, e tutto inizia con questa ricca donna che è una collezionista di libri antichi, che si rivolge a un uomo per rilegare insieme questi tre manoscritti, tutti e tre provenienti da epoche e soprattutto scritti da mani diverse. L'unica cosa che questa donna dice al rilegatore è di non leggere questi tre libri. Il rilegatore mantiene questa promessa fino a quando non viene a sapere che questa donna è stata uccisa, è stata assassinata e quindi presso della curiosità si metterà a leggere queste tre storie e ne rimane affascinato da una parte e turbato dall'altra e quindi decide di pubblicarle proprio con il titolo di Storie di due anime. Non vedo l'ora di leggerlo, mi incuriosisce tantissimo. Come avete detto è una recentissima applicazione Nord. Come sapete sono un grandissimo amante di questo tipo di libri in cui storie si intrecciano da altre storie, che si ricollegano ad altre storie ancora. Quindi sono veramente molto molto curioso di scoprire questo libro e poi ovviamente ne parleremo insieme. Passiamo a due meravigliose uscite per quanto riguarda l'Italia, che usciranno appunto ad ottobre per Oscar Volt. Una è una rilettura e si tratta della Guerra dei Papaveri, che è stato uno dei miei libri preferiti del 2020. Che uscirà appunto con la traduzione italiana per Oscar Volt, tra l'altro è il libro che abbiamo scelto per il Book Hunters Club, quindi ovviamente lo rileggerò. Non vedo letteralmente l'ora di rileggere di Rin e di quella che è la sua storia. È un libro fantasy per adulti che si ispira a comunque fatti veramente accaduti durante la guerra sino-giapponese che io vi consiglio veramente tanto. È una storia con una brutalità all'interno davvero spiazzante. Ci sono delle scene che mi sono rimaste particolarmente impresse nella mente dopo la lettura e l'idea di rigodermelo un'altra volta con la traduzione italiana mi esalta tantissimo. Non vedo l'ora di rileggerlo. Poi quella che per me è l'uscita di ottobre, se non forse degli ultimi mesi, ovvero Gideon, la nona, sempre per Oscar Volt. Questo è uno dei libri che aspetto di più in assoluto. Si tratta di un libro sci-fi, quindi un fantascientifico, dove studiamo la storia di questa negromante di nome Gideon e io non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserverà. Ho alte aspettative verso questo libro, davvero altissime aspettative, perché è il genere di libro che sento adatto a me e poi quest'anno con la fantascienza io proprio ho volato altissimo, quindi non vedo l'ora anche qua di leggerlo e poi di parlarne tutti quanti insieme. Anche questa sarà una delle mie prossime letture nella maniera più assoluta. Non sono riuscito a leggerla a settembre, infatti l'abbiamo già visto nella TBR di settembre. Si tratta di Dormire in un mare di stelle di Christopher Paolini. Questo è il nuovo libro di Christopher Paolini, ovvero l'autore di Aragorn, che ritorna in libreria con questo libro fantascientifico. In Italia il libro è stato diviso in due parti della Rizzoli. Il prossimo, il volume 2, quindi la seconda parte del primo libro, uscirà il 20 ottobre. Ho anche riflettuto se aspettare o meno l'uscita di questa seconda parte per poi leggerla tutte quanti insieme, ma credo di no. Leggerò sicuramente prima questa prima parte e poi quando uscirà leggerò anche la seconda. Ovviamente anche di questo poi ne parleremo insieme. Non so davvero cosa aspettarmi. Purtroppo non sono riuscito a leggerlo a settembre. Ho avuto altre cose da leggere e questo è stato un po' rimandato, ma allo stesso tempo sono molto, molto, molto curioso. Non ho letto una singola recensione su questo libro. Non voglio leggerle prima di farmi un'idea. Non voglio assolutamente avere nessun tipo di influenza esterna. I rettori sono schiarati moltissimo con Paolini come autore. C'è chi lo ama e chi lo odia. Io gli devo tanto per motivi che appunto, ecco, non sono sicuramente dettati dalla sua bravura nello scrivere le storie perché sappiamo com'è andata con Eragon e quello che Eragon rappresenta, però sicuramente è una parte importante di me. Non lo so, saremo a vedere. Ripeto, come ogni volta che ho parlato di questo libro, non so che cosa pensare, non so che cosa Paolini abbia potuto inventarsi con questo libro, però sono molto curioso. Ripropongo anche in questa TBR di ottobre, ripropongo anche in questa TBR di ottobre, La Torre della Rondine di Andrei Sapkowski. Questo libro della saga di The Witcher che purtroppo anche qua non sono riuscito a leggere a settembre. Mi ero prefissato di leggere questo volume a settembre, non ci sono riuscito e The Witcher è una di quelle serie che forse più di tutte ha la precedenza perché voglio assolutamente concluderla entro la fine dell'anno. Quindi mi manca sostanzialmente questo volume e il prossimo che poi sarà l'ultimo e infine il prequel che sicuramente leggerò, ma ecco non è che ho tutto questo grande smine di leggerlo, quindi la precedenza sicuramente ce l'hanno. Questo è l'ultimo volume. Spero anche qua di riuscire a leggerlo ad ottobre, anche se devo essere sincero sempre per la voglio leggere libri che comunque abbiano una determinata atmosfera, The Witcher non ci rientra proprio tantissimo, ma ci tengo particolarmente prima di tutto a continuare la storia e poi a concluderla perché voglio assolutamente concluderla. Questo è il fatto che comunque la curiosità di sapere come finirà tutto è molto molto scottante. Ovviamente poi c'è un'altra grande uscita per me di ottobre che è Black Sun, anche di questo ne abbiamo parlato tantissimo. Io ho un hype pazzesco per questo libro. Purtroppo per ora non uscirà in italiano, non è stato ancora annunciato da nessuna parte, uscirà solamente in inglese, ma non vedo veramente l'ora. Ho aspettative sopra le stelle verso questo libro e spero che si ribevi davvero una grandissima cosa perché, non lo so, ho vibes positive verso Black Sun, quindi teniamo le dite incrociate. Altra grandissima uscita di ottobre che tutti stavamo aspettando a braccio aperte è Tenebra e Rossa di Libardugo, ovvero il primo libro della Grisha Trilogy, che arriverà il 27 ottobre per Mondadori. Grande festa alla Corte di Francia, ragazzi, perché da quant'è che stavamo aspettando l'uscita delle Anna di Shadow and Bone? Da forse troppo. Vi avevo proposto di fare il gruppo di lettura tutti quanti insieme per leggere l'intera trilogia. Gli altri due, la Mondadori ha detto che comunque arriveranno subito, dopo il primo, e sarà fatto. Cioè faremo questo gruppo di lettura, quindi direttamente dal 27 ottobre poi partirà, ma comunque tutte le varie informazioni ve le darò quando ci avviciniamo alla data e quindi anche questo sarà uno dei libri che inizierò ad ottobre. Nonostante io abbia già letto questo libro, ha già due volte, questa sarebbe la terza, ma va benissimo. Ho una grandissima voglia, sinceramente, di rileggerla ancora, quindi va bene, facciamolo. Altro seguito che vorrei leggere ad ottobre, anche perché credo sia perfetto per questo periodo, è Alla ricerca del principe Dracula di Kerry Maniscalco. Sì, ho letto sulle tracce di Jack Scwartatore a settembre, ne parleremo nel wrap-up di settembre, che spero uscirà a breve. Ho pensieri molto, molto, molto contrastanti su quel libro, ma il fatto che vi stia facendo vedere il secondo e che vi stia dicendo di volerlo leggere, significa che forse qualcosa mi ha interessato del libro. Non vi dico ancora niente. Diciamo però che ho diverse cose da dire su il primo libro di questa saga. Nonostante questo, voglio leggere anche gli altri e quindi mettiamoci anche questo nella TBR. Tra l'altro si parla di Dracula e quindi ci piace. Me lo stavo tenendo pronto per questo periodo, quindi il periodo di Halloween, ovvero lui, The Dark Dissent of Elisabeth Frankenstein, che in italiano è la scura discesa di Elisabeth Frankenstein, erdito da HarperCollins, scritto da Kristen White. Si tratta di un libro autoconclusivo, una specie di retelling della storia di Frankenstein, con protagonista però questa Elisabeth. Sono molto curioso di leggerlo, perché ho sentito cose molto positive su questo libro. La White non è un'autrice con cui io vado particolarmente d'accordo, ho adorato Elisabeth Frankenstein, ma ci sono altri libri dell'autrice che invece non ho apprezzato per niente e lui ce lo teniamo proprio per la fine di ottobre. Concludiamo la TBR di ottobre con Magic, Dark and Strange. Anche questo lo terrò per la fine di ottobre, anzi ho intenzione proprio di leggerlo magari proprio i giorni vicino ad Halloween. Il libro racconta la storia di questa ragazza che ha un dono molto particolare, ovvero quello di resuscitare i morti e quindi fa questo lavoretto secondario cui evoca fantasmi per farli salutare per l'ultima volta ai loro familiari. Un giorno però gli viene fatta una richiesta molto particolare, ovvero quella di andare a ricuperare un orologio in un'antica tomba ed ecco, quello che troverà dentro questa tomba non è assolutamente un orologio, ma bensì il corpo di un adolescente che piano piano comincia a prendere vita. Questo libro mi intriga da morire, si tratta di un young adult, uscirà il 27 ottobre se non sbaglio, quindi proprio per Halloween. Sono molto curioso, come ho già detto, mi ricorda una giovane Anita Blake, quindi vedremo cosa ci riserverà. E così si conclude la mia TBR di ottobre. Sono molto curioso di sapere quali sono stati invece i libri che avete scelto da leggere durante gli ultimi giorni di ottobre, quindi avvicinandoci ad Halloween. Se anche voi siete come me, quindi quel tipo di lettore che preferisce leggere libri parecchio atmosferici durante il periodo di Halloween, voglio assolutamente sapere quali sono i titoli che sceglierete o avete già scelto. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, io li aspetto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!